L'assenza di Franco Di Mare da 1 mattina ormai è una notizia di pubblico dominio. Il conduttore della trasmissione del Buongiorno di Rai 1 si è preso una settimana di pausa per via di alcuni problemi di salute. Tornerà presto, ma il pubblico televisivo ne sente già fortemente la mancanza. Nel frattempo lo sta sostituendo egregiamente Marco Frittella, storico volto del TG1, ma sono in tanti quelli che impazienti aspettano con ansia l'arrivo del prossimo lunedì. Una data che, secondo quanto detto dallo stesso giornalista napoletano, segnerà il suo ritorno in tv. Basta farsi un giro sui suoi canali social per rendersi conto del grande affetto che i suoi fan nutrono per lui, lasciandogli numerosi messaggi di affetto e augurandogli la più buona e pronta guarigione. È facile leggere commenti di ogni tipo, dal semplice «Abi cura di te, torna presto in forze», ad un più caloroso «Torni presto, Franco, senza di lei non si può». Esempio di giornalista è uomo elegante, pacato e corretto, ci manca. Ma se per rivederlo in tv ci toccherà attendere il 26 marzo, lui dà un appuntamento nuovo a chi lo volesse incontrare prima. Ci vediamo venerdì 23 marzo alle 18 alla libreria Feltrinelli di Napoli, ha scritto in un post. Ci saranno Enzo Del Rico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, io e ovviamente Barnaba il Mago. L'incontro è dedicato alla presentazione del suo nuovo libro, intitolato appunto Barnaba il Mago, edito da Rizzoli, e che rappresenta una nuova commedia ricca di ironia, misteri e sentimenti. Nel frattempo in Rai chissà se qualcuno non se la prenderà per questo ritorno anticipato lontano dalle telecamere di uno mattina.